Oggi vediamo come gestire dei colori personalizzati in LibreOffice. Per colori personalizzati intendo un insieme di colori, una palette, che appartengono al vostro marchio aziendale, alla vostra soluzione, a quella che in gergo si chiama immagine coordinata. Ad esempio per il mio logo ho ricavato questi 5 colori di cui vediamo sia il codice RGB che il codice HTML più utilizzato in ambito web. Supponiamo di avere questo marchio, questi 5 colori derivati da questa immagine e di volerli creare ora in LibreOffice per poterli utilizzare in documenti di testo, presentazioni o quant'altro e di salvarli per averli sempre a disposizione. Prima cosa da fare è entrare nella finestra di dialogo delle opzioni. Fra le varie voci ce n'è una che si chiama colori e qui sono presenti tutti i colori che normalmente sono già in LibreOffice quando viene installato sul computer. Se voglio aggiungerne gli nuovi devo innanzitutto dargli un nome, in questo caso chiamerò il mio iiivi come idee in video che è questo marchio e poi un numero ad esempio per riconoscerlo. Primo gli darò un 1 e a questo punto devo dirgli se voglio un colore RGB o in quadricromia. Per comodità io utilizzo l'RGB. I numeri sono qua sopra, non devo fare altro che copiarli, 185, 217, 72 in questo caso. In questo riquadro vedo già il colore che si compone e a questo punto posso salvarlo. Posso passare quindi a fare il secondo, cambierò solo il nome, aggiusto i valori e salvo anche questo. E vi via molto velocemente posso fare tutti e tre, tutti e cinque pardon, i colori che mi sono prefissato. Per comodità io ho tenuto la finestra sotto aperta ma ovviamente uno potrebbe averlo stampato o di fianco. e non è fondamentale seguire l'ordine del colore piuttosto che il nome. Potrei ad esempio prima impostare il colore e solo successivamente, questo ad esempio l'ho sbagliato, ho messo un 139, anziché un 39 posso sempre cancellarlo e fare modifica. Posso selezionarlo anche da questa cartella se voglio oppure posso modificare il colore in sé nel senso che proprio lo salvo con un nuovo nome. In italiano queste due modifiche possono un po' confondere, in realtà questo ha tre puntini che indicano che se lo clicco appunto si apre una finestra di selezione da cui posso anche scegliere a mano il mio colore se non l'avessi già pronto. Mi manca solo l'ultimo, il 142, 193, 46 e a questo punto se è quello giusto posso cambiargli il nome e salvarlo. Quello che succede è che mi trovo qua adesso i 5 colori che ho appena creato. Vediamo ora come utilizzarli in LibreOffice, supponiamo ad esempio di colorare ogni paragrafo col suo colore, posso semplicemente selezionarlo e andare nella casella per applicare il colore e mi li troverò in fondo. È utile che se io mi porto sopra il colore compare in due punti diversi per il nome, in questo caso i V1, quindi sono sicuro di applicare quello giusto e via via tutti gli altri, i V2, i V3, i V4 e i V5. È importante segnalare che il nome deve essere univoco, ce ne può essere solo uno, quindi se io utilizzo un rosso diverso o cancello o rinomino il rosso preesistente oppure devo dargli un nome diverso. Per controllare i nomi normali basta semplicemente spostarsi sopra e compaiono dal blu all'arancione, dal grafico, ai colori rosso chiaro e quant'altro. In questo modo io ho realizzato i miei 5 colori che poi potrò andare a applicare per testo, per un riempimento di un'area o addirittura se volessi per il riempimento anche di una pagina nuova completamente con i colori da me impostati. Impostazione pagina, dovunque ci sia una scelta di colore io mi troverò la scelta con i miei colori quindi volendo usare il colore 3 o il colore 5 come sfondo sarà sufficiente utilizzarlo per ritrovarmelo nei miei documenti.